Ma come lo fanno adesso? Eh? Vai sì! Vai vai! Do you want un po' di fish? E per i fiii? Vai va! Vai sì! Vai sì! Vai sì! Oh! Ma che sì! Adem! Do you want that table there? Mm-hmm! Mmmmm Mmmmm сказ E lod Was Grazie a tutti.